Prezzo dunque calmierato per le mascherine chirurgiche vendute ad un massimo di 50 centesimi senza IVA, attualmente al 22%. Le mascherine saranno obbligatorie quando non sia possibile il distanziamento sociale, esenti i bambini sotto i 6 anni e i disabili. Dovranno essere monouso lavabili e anche autoprodotte. Secondo quanto descritto nell'articolo 3 dell'ultimo decreto, per la popolazione generale potrebbero essere utilizzate in alternativa le mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche quelle autoprodotte in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e al contempo che garantiscano comfort e respirabilità. L'utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi ad altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani che restano invariate e prioritarie. Dopo la carenza delle mascherine, fondamentale dispositivo di protezione, ora le farmacie ne hanno a disposizione, anche se resta qualche incertezza sull'IVA relativa all'ultimo decreto. Non è chiaro, almeno per noi, come fare poi ad avere questi rimborsi, insomma, dobbiamo ancora capire bene come fare e probabilmente alla prossima settimana anche noi riusciremo a venderle a 50 centesimi l'una. Di che tipo si tratta? Che mascherine sono? Cirurgiche, tre strati, quelle che indosso anch'io. Le altre per adesso, le FFP2, le abbiamo esaurite, le abbiamo finite. Ieri abbiamo cercato di fare un rifornimento, solo che uno dei nostri depositi di riferimento ci ha detto che anche loro le hanno, ma preferiscono non darle perché stanno aspettando anche loro dei chiarimenti per via di alcune sigle che dovrebbero comparire sulle mascherine. Insomma, c'è un po' un caos. In precedenza esorbitanti i costi delle mascherine che adesso sono a 50 centesimi, in una vera e propria speculazione sulle spalle del popolo italiano. Noi le abbiamo avute fino a 7 euro, 7, 6, 5, insomma, a seconda del prezzo che ci facevano. Hanno esagerato? Eh sì, molto, perché all'inizio queste mascherine non costavano certamente così tanto. Prima quanto potevano costare? 20 centesimi, 30, l'una, adesso siamo arrivati a 1,90, le prime che abbiamo avuto a noi costavano 2,50 euro più IVA.